Vicepresidente, una giornata importante dedicata alla sicurezza, in questo caso cittadina. Sì, dedicata alla sicurezza, festeggiare la polizia locale, quindi la polizia sia municipale ma anche quella provinciale è importantissimo. Oggi è la festa anche di San Sebastiano che è il loro protettore e ricordiamoci sempre che quando ci serve la polizia c'è e quindi consideriamo anche di ringraziarli in giorni nei quali siamo in tempo di pace e non soltanto quando è necessario. Quindi con la pioggia, con la neve, col sole, loro ci sono sempre e svolgono un servizio che magari è tacito ma molto importante. Ci sembra di capire anche che occorre un coordinamento tra le forze di polizia visto che ci sono oggi qui i rappresentanti. Sì, sicuramente un coordinamento già c'è, dovrebbe essere maggiormente coordinato anche a livello territoriale e questo in un momento nel quale ci sono scarse risorse soprattutto per i comuni, unire le forze è sempre comunque un obiettivo che aiuta a gestire meglio i servizi.